Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata faremo un unboxing un pochettino speciale, perché abbiamo comprato al Carefour esattamente questi cavi firmware, praticamente i cavi che servono per il collegamento di una telecamera mini-DV che adesso andremo a vedere al nostro computer con entrata ovviamente firmware. Ora, questi cavi sono costati veramente pochissimo, 10 centesimi. Infatti, cosa ho fatto? L'ho subito acquistato un casino. Cioè, praticamente sono stato, io sono l'unico ad acquistarne praticamente tutto il negozio, fino all'esaurimento scorte. Per l'età ne avevano solo 6. Questo perché l'ho fatto? Non è che l'ho fatto perché non avevo un cacchio, avevo tipo 50 centesimi proprio lì che mi bruciavano e allora li ho spesi così a caso. Ma per l'età perché questi cavi, purtroppo, oramai, in commercio stanno svanendo, cioè stanno per sparire. Probabilmente tra i prossimi due anni non esisteranno più. E quindi mi sono fatto una bella scorpacciata, anche perché adesso in commercio vengono venduti un po' di qualità a 9,90€, un prezzo veramente enorme. E io con solo i 60 centesimi mi sono portato praticamente questo gruzzoletto qui. Ora, cosa sono i cavi freeware e su che cavolo di telecamere si usano? I cavi freeware si utilizzano ancora per queste cassette. Le cassette Sony Mini DV, in questo caso io ho preso un ad esempio, però esiste anche quella GVC, Panasonic e così via. Però anche queste qui sono in via di estinzione, più o meno. Non è ancora in via di estinzione anche perché comunque esistono ancora telecamere che utilizzano queste cose, però probabilmente nei prossimi dieci anni spariranno pure queste. E che telecamere utilizzano queste cassette? Le utilizzano di solito o queste qui, che in questo caso è una Panasonic professionale, che ha, come vedete, il vano cassette. Quindi è veramente molto grossa come cosa. Però adesso ne prendiamo uno, ad esempio, quindi ho preso proprio uno a caso. Zoomiamo sul nostro pacchetto perché andremo a vedere la qualità effettiva di questi cavi. Allora, andiamo a fare il nostro unboxing. Quindi tagliamo la punta e andiamo a vedere com'è il cavo. Devo dire che il cavo è perfetto, cioè devo dire che è veramente fatto in ottima fattura. Oltre al cavo che ha dentro una guaina, credo anche per non prendere interferenze, quindi è perfetto. Cioè sento praticamente robusto il cavo, non è quelle stupidate cinesi, ad esempio, molto piccoli che si rovinano, non si rompono molto semplicemente. Ma questi qua sono di un'ottima fattura, infatti sono veramente messi molto bene. Infatti non ho molto da dire, però comunque, come vedete, sono veramente fatti molto bene. Aspettate che provo a mettere a fuoco così, ecco. E qua c'è anche una scritta con su scritta, vabbè comunque sono da un metro e otto, quindi veramente ottimi. Comunque questo era l'unboxing veramente molto speciale del cavo framework per telecamere mini dv, quindi io vi piazzo qui praticamente tutto, così vi faccio una bella zoomata. Mettiamole qui, in questo modo, ecco, forse un po' troppo. Ancora un pochettino, perfetto. E noi ci vediamo a una prossima puntata della Computer Museo. Grazie ancora e ciao ciao! Ciao!